Scenari. Crea molteplici scenari personalizzati. Uno scenario è un insieme di azioni eseguibili da un singolo riquadro. Tutti gli scenari creati vengono raggruppati nella sezione Scenari. Per creare uno scenario, selezionare l'icona più accanto alla scritta Crea nuovo scenario, in alto a sinistra, nominare lo scenario e selezionare l'icona preferita. Per personalizzare lo scenario, selezionare l'icona più accanto alla scritta Aggiungi le azioni per lo scenario. Per programmare tutti i dispositivi da gestire, basta toccare l'icona che si vuole personalizzare sulla piantina, impostando l'azione desiderata e ripetendo l'azione per tutti gli ambienti da associare allo scenario. Agli scenari creati è possibile aggiungere la musica, selezionando il tasto Media. Le opzioni disponibili sono Main DJ, un DJ Play virtuale per selezionare la musica secondo gli artisti, gli album o i brani preferiti. Catalogo musicale. Per creare una playlist delle canzoni, degli artisti o degli album presenti nel proprio catalogo. Web Radio. Per selezionare la propria radio preferita. Stop Multimedia. Per fermare qualsiasi musica o video in esecuzione. Per salvare le impostazioni, selezionare l'icona Salva e lo scenario creato sarà disponibile all'interno del wall. Basta selezionare il riquadro per metterlo in esecuzione. Basta selezionare il riquadro per metterlo in esecuzione.